Allora, io vorrei introdurre brevemente uno stupidario alimentare delle mense pubbliche, nel senso che abbiamo trovato una serie di esempi che rappresentano altrettante incongruenze tra quello che un comune, una provincia, un ospedale, un carcere, un'azienda chiede nei capitolati per fare le gare e quello che poi la realtà può offrire. Abbiamo diviso in tre capitoli, il primo capitolo sono veramente i casi patologici, se così si può dire. Per esempio, nel capitolato di un comune del centro Italia, non diremmo quale, che però si affaccia su un lago, dopo che si è formata in loco la cooperativa dei pescatori, il comune ha richiesto per le sue mense di valorizzare i prodotti del lago, ma è peccato che il lago abbia come ospite principale, quindi in grandi quantità, il pesce carassio. Ora, il pesce carassio è un pesce infestante, mangia tutti gli altri pesci, è pieno di lischi e di spine, più o meno è come il pesce gatto. Allora, il comune ha insistito, chi faceva le mense ha provato per un anno a dare questo pesce in tutte le salse ai bambini, fa schifo e alla fine pare che ci abbiano rinunciato. Un altro comune, questo è un comune capoluogo della Campania, nel prossimo capitolato di gara, che si terrà quest'anno, è stato inserito come prodotto la carne di suino dop, che però non esiste. Nel senso che l'elenco dei dop, i GP eccetera eccetera è sconfinato, siamo andati a vedere, il suino dop non esiste. C'è un altro comune capoluogo di regione, questa volta del nord Italia, ha richiesto espressamente sale marino integrale grosso e fine, senza additivi e senza antiagglomeranti. Tradotto, vuole dire che questo prodotto in sostanza non è commercializzato sul mercato italiano perché risulterebbe in pratica un monolite, cioè sarebbe un pezzo intero di sale e quindi è stata fatta una ricerca e hanno trovato un produttore di questo sale solo in Normandia, produce del sale grezzo raccolto a mano, però costa moltissimo, non sala e non è conforme alla legge italiana perché ci sono un sacco di impurità dentro. È stato fatto presente al comune che la situazione è questa, ma c'è un funzionario che si è impuntato e quindi c'è il sale monolitico che costa più di quello che si mangia. Poi un altro committente, qui dobbiamo dire chi è, ma insomma con tutto l'affetto, le forze armate. Le forze armate nel loro capitolato riportano quanto segue, tra le altre cose le misure in centimetri di zucchine, che devono essere 21 centimetri, e di peperoni, la cui larghezza deve essere 7 centimetri. In particolare, i peperoni di prima categoria devono essere interi, muniti di peduncolo, che può essere leggermente danneggiato o tagliato purché il calice risulti integro, praticamente esente da macchie. La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a 1 peperoni dolci lunghi 30 mm, 2 peperoni dolci quadrati senza punta 50 mm, 3 peperoni dolci quadrati con la punta 40 mm, 4 peperoni dolci di forma appiattita 55 mm. Dopodiché le zucchine. Le zucchine devono avere un peduncolo con una lunghezza non superiore a 3 centimetri e nel caso di calibrazione per lunghezza devono essere da 7 a 14 cm incluso il peduncolo, oppure da 14 cm escluso a 21 cm incluso, da 21 cm escluso a 30 cm incluso. Il problema è che qualche maresciallo si è messo a misurare le zucchine e i peperoni e li ha scartati perché non erano della misura giusta. Brevi intermezzo invece in generale sui prodotti. Partiamo dall'alibut. Se nominate l'alibut a mia figlia sta male perché gli hanno dato dell'alibut per tutte le scuole, cioè nella sua mensa si mangiava fondamentalmente l'alibut. Perché? Perché l'alibut in realtà è un pesce comodo da mangiare, è in tranci, non ci sono lische o oresche per cui è facile da dare ai bambini. È un pesce comodo da mangiare sì, ma non è altrettanto comodo da trovare. Ci sono due famiglie di alibut, il reinardius che è il più comune e l'ippoglossus ipoglossus che invece è molto raro. I capitolati richiedono naturalmente l'ippoglossus ipoglossus. Per averlo, per esempio CIR, si è rivolta a dei pescatori che lo pescano apposta e costa moltissimo. Qualche comune si era assegnato e al posto dell'alibut adesso si mangia il pesce passera che pare che sia buonissimo. Altri prodotti, per esempio alcuni comuni richiedono piselli finissimi bio, però tra i produttori, soprattutto del biologico in genere, non viene fatta la selezione fra piselli finissimi e piselli fini e vengono confezionati tutti quanti assieme. Dopo una lunga ricerca è stato trovato un produttore che fa la cernita tra finissimi e fini, ma naturalmente costa di più. Oppure gelati bio, però pare che non siano tanto buoni, pare che spesso vengano prodotti con latte in polvere e soprattutto ci sono pochissimi produttori che ne producono grandi quantità. Oppure carne fresca bio, la produzione di carne bio in Italia non è sufficiente, infatti la carne fresca bio in Italia è soprattutto austriaca. Poi ci sono invece dei casi diciamo così discutibili, cioè belli da approfondire perché c'è un'ottima intenzione da parte dell'ente ma una difficoltà di realizzazione di queste magnifiche intenzioni. Per esempio, capitolato da palto di un grande ospedale lombardo, il San Gerardo in questo caso, hanno richiesto gnocchi. Gnocchi che devono essere preconfezionati all'origine, sotto vuoto, in confezione di quantitativo tale da soddisfare le esigenze di consumo giornaliero, senza determinare avanzi di prodotto sfuso, preparati con almeno l'80% di patate, senza additivi alimentari aggiunti. Va tutto bene, però i cuochi diventano matti perché si imbaloccano, non so come dirlo in termine tecnico, sono praticamente difficilissimi da preparare. Oppure sempre lo stesso ospedale ha chiesto aceto che deve essere balsamico con acido acetico superiore al 7%, giusto, bello, buono, esiste, costa molto di più, basta saperlo. Oppure, capitolato di un comune lombardo di 40 mila abitanti, diciamolo, è Rozzano, il capitolato prevede prosciutto cotto convenzionale ma con totale assenza di conservanti, che in realtà non esiste in natura, nel senso che soltanto i prodotti bio hanno queste caratteristiche. Quindi è stato fornito un prodotto bio, però naturalmente anche in questo caso costa di più, basta saperlo. Il comune di Roma è un comune assolutamente, diciamo così, avanzato, molto virtuoso, utilizza prodotti bio, DOP e IGP. Il comune di Roma vuole la ricotta romana DOP biologica e difatti recentemente si è costituito un consorzio per la produzione della ricotta romana DOP di origine biologica, quindi tutto bene. Ma non ci sono abbastanza pecore bio da sopperire ai consumi del comune di Roma? Inoltre la ricotta è una sottolavorazione del pecorino, cioè si utilizza il siero. Quindi per fare la ricotta è necessaria una sovra produzione di pecorino che però non è presente naturalmente nei menu e quindi c'è un'inutile produzione di pecorino in eccesso che poi non viene utilizzato e insomma alla fine si sta provando a sostituirla con la normale ricotta vaccina. Sempre il comune di Roma, da capitolato d'appalto, vuole l'agnello IGP. Benissimo, però l'unico agnello IGP in Italia viene solo dalla Sardegna e ce n'è poco. Allora il comune di Roma cosa ha fatto? Ha detto ma mi va bene anche l'abbacchio romano IGP. Benissimo, anche lì si è stato fatto un consorzio che produce l'abbacchio romano IGP, ma l'agnello che viene utilizzato dal faro spezzatino richiede che ci sia tanta polpa. L'abbacchio romano IGP invece al massimo pesa 7 chili, quindi c'è poca polpa e servirebbero un sacco di agnelli e non ci sono abbastanza agnelli per farlo spezzatino IGP per il comune di Roma. La soluzione trovata è che si importa agnello IGP dal Galles e dalla Scozia. La conclusione, l'ultimo esempio, il comune di Salerno giustamente nei suoi capitolati specifica che il comune richiede e promuove l'utilizzo di alimenti di produzione biologica, gli alimenti a filiera dedicata a bioregionale, a lotta integrata, tipici e tradizionali, nonché a quelli a denominazione protetta, i prodotti provenienti dal commercio ecosolidale, i prodotti provenienti da cooperative sociali e prodotti a filiera corta e chilometro zero.